A Caterina Sarfatti, C40 e i rifugiati ambientali. Raccontaci cosa fate. Allora, le C40 è un'organizzazione che lavora con le città, un'organizzazione guidata da sindaci di tutto il mondo e ci occupiamo di sostenere i sindaci nel fare politiche ambientali sostenibili di riduzione delle emissioni contro il cambiamento climatico. E stiamo vedendo proprio in questi mesi, in questi anni, che le città che sono il 3% della superficie terrestre ma emettono il 75% delle emissioni di CO2 sono anche quei luoghi che stanno già gestendo flussi importanti di profughi che si potrebbero già definire oggi alcuni come profughi ambientali cioè persone che si muovono forzatamente dalle proprie case a causa di impatti del cambiamento climatico dalle grandi siccità all'innalzamento dei mari ai fenomeni improvvisi come grandi cicloni o le inondazioni. Ovviamente isolare la questione del cambiamento climatico come unico motivo per cui le persone emigrano è ovviamente complicato entrano in gioco anche i fattori socio-economici legati ai governi di appartenenza però insomma sempre più spesso vediamo che le persone si spostano anche a causa di questi motivi. Caterina Sarfatti, tu citavi le città, siete una rete di città, di metropoli, megalopoli anche e alcune città, c'è il dibattito della città-stato famosa e degli stati nazionali hanno la capacità di riuscire a spingere il diritto verso zone in cui lo Stato nazionale fa fatica o comunque si arriva più tardi, più lentamente, possiamo dire addirittura ha bisogno di alcuni pionieri in questo campo e le città non sono più soltanto l'amministrazione ma sono un governo. Quindi da questo punto di vista abbiamo una battaglia importante che è quella dello status del rifugiato ambientale. È verissimo, tra l'altro proprio il clima e le migrazioni credo che siano i due grandi temi su cui le città stanno dimostrando una leadership, quindi su cui i sindaci stanno dimostrando una leadership dove i governi nazionali arrancano. Per esempio, sempre sulla questione del clima, poi arrivo all'immigrazione, ma sempre sulla questione del clima quando per esempio Donald Trump ha deciso di ritirarsi dagli accordi di Parigi l'anno scorso, più di 300 sindaci americani hanno firmato la cosiddetta promessa americana, che trovo essere un nome bellissimo, dicendo noi siamo ancora dentro e noi riusciremo a raggiungere quegli obiettivi dell'accordo di Parigi anche senza il governo federale, quindi dimostrando una grandissima leadership. Lo stesso potrebbe avvenire per la questione dei rifugiati ambientali, sicuramente come dicevo prima le città stanno già gestendo alcuni di questi flussi, sanno già che c'è questa problematica, tra l'altro soprattutto nei grandi città dei paesi del sud del mondo perché la maggior parte delle migrazioni climatiche sono migrazioni interne e quindi potrebbe essere che siano i sindaci a chiedere alle istituzioni internazionali, alle organizzazioni regionali di adottare delle misure e riconoscere almeno questo fenomeno che vediamo. Ultima domanda sui decision makers, perché voi ovviamente avete fatto un'operazione di lobby positiva sulle grandi istituzioni a tutti i livelli, i cittadini in questo momento, gran parte della cittadinanza per esempio in Italia ma anche in altri paesi, vive un momento di crisi di rapporto con istituzioni come per esempio la forma partito o addirittura anche i partiti a livello a sua scala nazionale di governo. Quindi la domanda è, voi come azione vi proponete anche di riuscire a diventare un tramite nella comprensione per i cittadini di quelli che sono le problematiche e di trasportarle poi all'istanza della politica e dei partiti a livello nazionale e transnazionale? Allora, ieri Stefano Bueri a un'iniziativa del Festival diceva che C40 è un progetto innanzitutto politico nel senso alto del termine, quindi non quello partitico ma quello della polis per l'appunto greca e io lo condivido molto, noi ovviamente lavoriamo con tutti i sindaci del mondo a prescindere dal colore politico perché tra l'altro i sindaci a prescindere appunto dal colore politico hanno un immediato bisogno di rispondere a bisogni e a rispondere a questioni urgenti del proprio territorio quindi lavoriamo con tutti ma sicuramente siamo un tramite, un aiuto perché loro possano più facilmente parlare alla propria cittadinanza sulle questioni del cambiamento climatico quindi diciamo non interagiamo noi direttamente con i cittadini delle varie città del mondo ma sicuramente c'è una domanda da parte dei nostri sindaci di dargli più strumenti e più anche informazioni anche competenze e conoscenze su come fare comunicazione, ingaggio, partecipazione sulle grandi questioni climatiche perché ovviamente senza diciamo il cambiamento delle proprie abitudini e senza una consapevolezza da parte dei cittadini su cosa vuol dire ridurre le emissioni cosa vuol dire cambiare le proprie abitudini, cosa vuol dire anche adottare un modello sociale-economico forse diverso da quello che abbiamo noi oggi senza la partecipazione diretta dei cittadini in queste decisioni ovviamente non potremmo raggiungere questi obiettivi radicali che ci domanda l'accordo di Parigi